Bentornati a tutti quanti in questo mio nuovo video e benvenuti nel primo video del 2014. Volevo cominciare questo nuovo anno con una nuova recensione, però, dato che, come potrete già capire dai miei capelli, sono in un periodo d'esame all'università, per meglio dire febbraio, il periodo degli esami, gennaio, e il tragico periodo dello studio, in questo periodo non ho per niente tempo e ho deciso oggi, che è giovedì 16, di prendermi un attimo una pausa per girare un video, poiché, appunto, spero che questo 2014 non sia come è stato purtroppo il 2013, sia un anno di pochi video per varie cause. Avevo appunto in mente di iniziare l'anno con una nuova recensione, però ho preferito cominciare con un video, diciamo, più leggero e anche meno impegnativo per me, per quanto riguarda il montaggio, e di realizzare finalmente un video che io volevo fare, come dico praticamente ogni volta, da tantissimo tempo, non dico dall'inizio di quando ho cominciato a fare video su YouTube, però diciamo che già, per esempio, due anni fa mi era venuto in mente che volevo fare questo video. Il video in questione è un video speciale, un video tutto dedicato ai film mito della mia infanzia, quelli che ogni tanto durante gli aggiornamenti della mia collezione nomino come film mito della mia infanzia. Tanto per cominciare, dico subito che in questo video parlerò proprio di film, cercherò di parlare proprio di film in live action, cercherò di evitare di parlare il più possibile di film d'animazione, soprattutto dei film della Disney, poiché io do per scontato che chiunque sia cresciuto, comunque la maggior parte dei bambini, comincia a vedere film con i film della Disney, o comunque con i film d'animazione, e secondo me è il modo migliore per approcciarsi a questo mondo che è il cinema. Cominciare con i film della Disney è il modo migliore, poiché la Disney ci ha sempre saputo trasmettere dei messaggi molto buoni, delle lezioni di vita molto importanti, che poi va bene, su internet la gente non fa altro che gettare palate di merda sul povero Walt Disney, sul suo caratteraccio, sul suo probabile antisemitismo. Io non guardo la figura di Disney, ma io guardo solo e dedicamente ai film che ci ha lasciato, e sono film bellissimi. Quindi appunto non vi sto a elencare La spada della roccia, oppure Il re leone, Biancaneve, Cenerentola, ma anche film diciamo un po' più moderni, tipo Tarzan o Atlantis, che sono stati tutti film che mi hanno segnato quando ero un bambino. L'unico che vi cito è quello che per me è stato il film, diciamo, preferito. Se voi avrete mai la fortuna di parlare con i miei parenti, loro saranno tutti quanti a dirvi che il film che io da piccolo mi guardavo di più era Peter Pan, parlando dei film della Disney. Tuttavia io, come anche parlando con mia madre, sono abbastanza sicuro che invece il film che più mi piaceva quando ero piccolo della Disney era Basil e l'Investigatopo, poiché appunto è stato sempre, a me ha sempre affascinato il mondo dell'indagine, poi adoravo i film con gli animali, soprattutto gli animali antropomorfizzati ed è paradossale questa cosa, poiché oggigiorno uno dei generi di film che detesto sono quei film con gli animali parlanti, però sono i film in live action tipo Beverly's Chihuahua oppure film come Garfield, che Garfield già mi è un po' piaciuto, però anche come Cani e Gatti che mi è piaciuto, però è un genere che non sopporto sinceramente, come in generale i film live action sugli animali, però vabbè, di questo ci sarà da parlare magari in un altro video. E appunto Basil l'Investigatopo è stato il film che io, della Disney, che ritengo più rappresentativo della mia infanzia. E con questo spero di chiudere il discorso della Disney perché appunto non voglio parlarvi dei film della Disney perché quelli ho per scontato che chiunque li ha visti quando è stato un bambino. Personalmente, ogni volta che mi capita di parlare di quei film che hanno segnato la mia infanzia mi vengono in mente tre titoli che per me sono stati più importanti, appunto i miei... non dico proprio miti, ma sono stati proprio delle vere e proprie ossessioni quando ero un ragazzino. Questi tre titoli ve li presenterò in ordine crescente, a partire appunto da quello che è stato un film importante ma non come lo è stato quello della seconda posizione o quello della prima posizione. Il film in questione è Scemo e più Scemo, con Jim Carrey e Jeff Daniels, diretto dai fratelli Farrelly. E' stato un film che io ho amato da sempre perché appunto è uno dei motivi per cui Jim Carrey è uno dei miei attori preferiti perché io appunto Jim Carrey lo collego alla mia infanzia, poiché vedevo i suoi film continuamente e ogni volta morivo da ridere. Scemo e più Scemo in particolare, nonostante sia un film demenziale al massimo, veramente giocato sulla stupidità che secondo me è la morte del cinema comico, incredibilmente funziona e secondo me continua a funzionare. Cioè io non parlo con gli occhi del nostalgico che guardando Scemo e più Scemo ride perché ci rideva da piccolo. Io con Scemo e più Scemo continuo a ridere e vedo che continua a far ridere perché nella sua stupidità ha una logica è una commedia ad equivoci che però sono equivoci giocati benissimo, cioè battute, poste veramente bene con un tempismo comico che nonostante la stupidità funziona. Cioè vi basta pensare alla scena finale, no non faccio spoiler di nessun tipo però, basta pensare alla scena finale con questo camion di donne in bikini che ferma Harry e Lloyd per strada per chiedere se vogliono diventare i loro massaggiatori ufficiali, loro fanno, siete fortunate, c'è una città a poca distanza da qui, già qui ridete. Poi cosa succede? Jim Carrey fa, ma ti rendi conto di quello che hai fatto e loro vanno a correre contro questo autobus, lo fermano e Jim Carrey tutto traverato fa, no il mio amico dovete perdonarlo, è un pochino tardo, la città è da quell'altra parte, cioè è una battuta stupidissima ma è giocata talmente bene, soprattutto è giocata da due attori fenomenali che mi fanno ridere, cioè anche le battute più veramente infantili come può essere l'attacco di diarrea causato dalla purga oppure Jack Daniel che rimane attaccato con la lingua sul ghiaccio, sono veramente battute che se ci pensate sono puerili, sono proprio battute che fanno ridere solo e unicamente i bambini, eppure io quando guardo quel film continuo a ridere e appunto ripeto non perché ci ridevo da piccolo e quindi mi ricordo come ero quando ero piccolo, continuo a riderci perché obiettivamente è un film che fa ridere, fa ridere perché nonostante ci presenta la cosa non la presenta in maniera volgale, cioè appunto la scena per esempio dell'attacco di diarrea che è una delle scene diciamo di comicità più bassa perché riscorrerò un metodo del genere e obiettivamente è comicità bassa, fa ridere perché noi non vediamo l'atto, cioè non vediamo direttamente quello che esce, sentiamo solo i suoni e ridiamo per la situazione che si va a creare, e questo che lo ha reso secondo me un film geniale nella sua stupidità è che da piccolo mi faceva ridere tantissimo e tuttora mi fa ridere tantissimo. A salire, giusto per rimanere in tema, Jim Carrey, The Mask. The Mask è probabilmente il film mio preferito con Jim Carrey, ci sono anche i film ovviamente di Ace Ventura, Una settimana d'addio, ma The Mask è veramente, insieme al film della prima posizione di cui vi parlerò fra poco, è sicuramente il film più emblematico della mia infanzia. Lo vedevo ogni giorno, avevo il film in VHS uscito in edicola, mi ricordo, con Specchio della Sera, quella videocassetta l'ho veramente consumata, quando dico che l'ho consumata intendo dire che l'ho proprio rotta, è stato il più grande trauma della mia infanzia, quando ho messo la videocassetta nel videoregistratore, non funzionava, cacciavo la videocassetta e scoprivo che il nastro era tutto rigato e distrutto. Questo per tutte le volte che lo avevo visto. Un film, anche questo, mitico per Jim Carrey, mitico per la storia, un comicità però surreale, cartunesca, qui però non si parla di una comicità stupida, qui c'è una comicità molto più fisica, molto più sullo slapstick, sono proprio le vere e proprie battute parlate, come dire. E The Mask è stato veramente un caposaldo del cinema della mia infanzia. Io ogni volta che rivedo The Mask, qui a differenza di scemo e più scemo, mi c'era quasi da piangere perché ripenso a quegli interi pomeriggi, quelle serate che io passavo sulla poltrona in casa mia, a guardare questi film, perché io appunto sin da piccolo guardavo film in continuazione, cioè non ero un grande giocatore di videogiochi come lo sono adesso, perché appunto da piccolo invece preferivo guardare i film. E The Mask appunto ogni volta, ogni giorno, veramente sono arrivato a vederlo ogni giorno, e tuttora io continuo a dire che potrei recitarvi dall'inizio alla fine tutto il film di The Mask senza averlo davanti, potrei recitarvelo completamente anche con delle internazioni particolari. Questo vi fa capire quando sono folle nella mia mente. Poi, Il Massimo del Massimo, il film per eccellenza della mia infanzia. Casper. Casper è stato uno di quei film che ho scoperto perché mio padre fin da piccolo mi affittava i film, non me li compravano, però appunto li affittavano, perché avevamo la fortuna che vicino a casa nostra c'erano diversi video noleggi. E noi praticamente ogni settimana affittavamo un film. E ogni tanto mio padre, senza dirmi niente, mi affittava qualche film e io appunto lì ho conosciuto film come The Mask, lì ho conosciuto film come Scemo più Scemo, Bugiardo Bugiardo e tutti i grandi miti di Jim Carrey. Una volta, ovviamente non posso ricordarmelo perché ero piccolissimo, un giorno mio padre mi affittò Casper e da allora Casper è diventata un'ossessione per me e per mio padre. Che cosa intendo dire? Che io Casper lo volevo vedere sempre. Ogni volta che mio padre mi diceva che film devo prendere, io dicevo Casper. Ogni volta che mi diceva che film vogliamo guardare stasera, io dicevo Casper. Casper è diventata la mia ossessione perché fin da piccolo mi aveva colpito per la sensibilità, per la poesia di questo film e l'innocenza di questo film. Per farvi capire, mio padre e mia madre sono dovuti arrivare a dirmi che non mi potevano più affittare il film perché la videocassetta si era rotta. Non era vero, però io ci credevo. E quanto ci sono potuto stare male per questa cosa. Il miracolo è avvenuto dopo quando poi mi comprai la videocassetta, anch'essa in edicola, questa volta però con panorama. Cassetta che pure questa ho vista tantissime volte, però non ho rovinato appunto perché avevo paura che potesse succedere come era successo con The Mask. E allora che facevo? Cercavo di vederla il meno possibile. Poi vabbè, è uscito il DVD e lì è stata la fine e ho sentito che dovrebbe uscire anche il Blu-ray a breve e quindi sarà veramente uno dei giorni più felici della mia vita. Casper, appunto come dicevo, mi è sempre piaciuto per il suo modo di affrontare una storia così semplice, in una maniera così delicata, così profonda. di far ridere però non è un film che vuole far ridere, è un film che vuole far pensare, un film che vuole emozionare, un film molto innocente nella sua realizzazione ed è veramente, veramente bellissimo secondo me. È uno di quei film che veramente ogni bambino dovrebbe vedere perché, cioè appunto, ti insegna ad affrontare un tema sensibile come può essere la morte. Cioè, un film che ti può far veramente capire cos'è la morte senza però fartene uno spauracchio, senza fartene paura di questo tema. Qualcosa che secondo me è veramente importantissimo per la formazione di un bambino e quindi Casper è stato sicuramente il film che più di tutti ha rappresentato la mia infanzia. Quindi, scemo e più scemo, The Mask e Casper sono stati appunto i film che io cito sempre quando parlo dei film della mia infanzia. Ora passo invece a un discorso un po' più generale ossia vi voglio parlare appunto di quei film che io guardavo costantemente da piccolo e che sono appunto diventati miti della mia infanzia. Primo su tutti, I Gunis di cui vi ho anche già parlato in una recensione. I Gunis mi è sempre piaciuto perché era la storia che io avrei voluto vivere da piccolo. Mi sarebbe veramente piaciuto tantissimo poter andare in uno scantinato, in una soffitta a trovare una mappa del tesoro con degli indizi e partire all'avventura alla ricerca di questo tesoro attraverso punicoli, enigmi, pericoli. È sempre stato un mio sogno e questo lo rappresenta il fatto che io sono un grande amante sia della letteratura che del cinema avventuroso. Nonostante io sono amante della fantascienza e del fantasy io continuo a dire che il mio genere preferito sia nella lettura, sia nel cinema ma anche nei videogiochi è l'avventura. I Gunis appunto è stato quel film che io avrei voluto tanto vivere e per questo motivo mi segnò particolarmente io mi ricordo che lo vidi la prima volta in televisione non sapevo dell'esistenza di questo film finché appunto non passò su Italia 1 una sera e io me lo registrai e quante volte ho potuto vederlo non lo so. Adoro quel film sono contento di aver preso il Blu-ray anche se appunto il Blu-ray ha quelle pecche di cui vi ho parlato nel video e I Gunis appunto è stato veramente un caposaldo una grande avventura per la mia infanzia. Altro film della mia infanzia che in un certo senso contraddice quello che ho detto prima perché si tratta di un film della Disney però non è un film d'animazione della Disney è un film live action della Disney che però vedo che qui in Italia cioè questo genere di film non è che non viene calcolato non ne viene parlato però non è mai tra i film che si fanno vedere ai bambini è I Muppet nell'isola del tesoro che è stato il primissimo film che ho visto dei Muppet o per meglio dire è stato il primo la prima visione che ho avuto dei Muppet nel senso che io i Muppet li conoscevo ma per sentito dire li conoscevo solo perché nelle cassette della Disney prima che partisse il film c'era sempre da qualche parte il trailer degli episodi dei Muppet in un video io vedevo solo quei video non avevo idea di cosa potesse essere in realtà è il Muppet Show per me I Muppet poi sono stati quelli dei film il Muppet Show l'ho recuperato solo dopo e I Muppet nell'isola del tesoro appunto è stato il primo film dei Muppet che ho potuto vedere ed è quello che mi sta più a cuore è quello che mi rivedo sempre con più gioia perché univa i Muppet che sono diventati un grandioso mito della mia infanzia al tema avventuroso che vi dicevo prima inoltre costellato di canzoni non neclatanti ma molto orecchiabili che tuttora mi ricordo in mente battute sarcastiche e taglienti poi i pupazzi Muppet che fanno ridere anche solo per la loro presenza hanno reso questo film interpretato tra gli altri da Tim Curry ossia quel Frank and Furter di Rocky Horror Picchu Show che ha fatto tanti altri film come Cacciotto Bleroso Mamma mia ho riperso l'aereo ha fatto tanti film ma penso che Rocky Horror sia il più emblematico e subito dopo il Rocky Horror per me c'è appunto I Muppet nell'isola del tesoro altro film grandioso che io guardavo da piccolo guardo tutto e continuo a morire e dar le risate è stato Un Topolino Sottosfratto diretto da Gorber Brinsky quello che poi dirigerà Pirati dei Caraibi Long Ranger The Ring il remake di The Ring Un Topolino Sottosfratto è stato un film anche esso che io ho scoperto attraverso i trailer nelle VHS non mi ricordo quale film però non era della Disney e mi aveva incuriosito da questi trailer e per fortuna un giorno passo anche esso su Italia 1 e io lo vidi e morì dalle risate ma anche in questo caso come versione più scemo non è una risata relativa alla battuta ma una risata relativa alla situazione che si andava a creare certo guardarlo oggi è un film con tantissime pecche però anche questo è un film molto piccolo un film per famiglie che ti fa staccare il cervello tu lo guardi passi un po' di tempo divertendoti senza stare a farti troppe pippe mentali un film che appunto io continuo a vedere soprattutto sotto Natale che incredibilmente esula dal solito canone di film per famiglie e per l'infanzia poiché è un film comunque molto cupo è un film molto scuro dove ci sono scene anche abbastanza direi di impatto cioè vedere un topo che riduce alla follia uno sterminatore di insetti che veramente esce fuori di testa come dire è una scena di un certo impatto però è un film comunque godibilissimo secondo me non posso poi non citare e può sembrare un po' strano Titanic Titanic di James Cameron uscito che io comunque avevo già 7-8 anni non voglio sbagliarmi è stato un film che dall'inizio mi aveva interessato poiché è stato il primo film veramente maturo che io ho visto e mi era piaciuto da sempre cioè io ho sempre adorato da allora i film di impatto nel senso i film drammatici o comunque le tragedie umane e Titanic è stato proprio il primo film io mi ricordo che lo vedi perché mi piaceva la musica di Celine Dion cioè vedendo i trailer sentivo questa colonna sonora che poi appunto è uno dei miei generi musicali preferiti perché la colonna sonora di Titanic era ispirata alle sonorità della musica di Enia perché James Cameron voleva Enia all'inizio come compositrice delle musiche però lei si rifiutò allora chiese al compositore delle musiche di fare delle musiche simili alle sonorità di Enia e io mi ricordo che appunto vedevo questi trailer con questa musica che mi piacevano tantissimo io vedi quindi il film principalmente per la musica soprattutto la canzone di Celine Dion e per la famosissima scena di Sto volando Jack sulla prua della nave cioè mi ricordo che lo vedi il film e rimasi estasiato era bellissimo erano tre ore di film che però non mi pesavano mai che io guardavo all'inizio quando ero piccolo lo guardavo e vedevo il film in sé poi crescevano piano piano iniziato a scoprire veramente significati di determinate scene di determinati messaggi ed è uno dei motivi per cui ogni volta che io vedo Titanic scoppio a piangere altro grandioso mito della mia infanzia legato a un grande nome come può essere quello di Steven Spielberg è Huck Capitano Uncino la prima grande reinvenzione di una favola il suo proseguire di una favola sceneggiato in una maniera egregia un film molto favoristico ma allo stesso tempo molto maturo interpretato da un cast eccezionale una reinterpretazione del mito di Peter Pan veramente bella è bello vedere come i film di oggi film favolistici ma anche dei film come può essere Once Upon a Time film come Alice in Wonderland Biancaneve il calciatore Biancaneve di Tarsen il prossimo Maleficent che deve arrivare sono tutti film che devono molto a Huck Capitanuncino di Steven Spielberg poiché se c'è stato un film che è riuscito a reinterpretare una favola riuscendo ad uscire dal canone pur rimanendo all'interno di esso il primo di tutti è stato Huck Capitanuncino o perlomeno se non è stato il primo è stato quello che ci è riuscito meglio ed è un film che appunto ricordo sempre con molto affetto perché anche esso univa la componente avventurosa anche la reinvenzione di uno dei miei miti del film della Disney che era appunto Peter Pan e questo film non è della Disney però ne prende anche gli elementi visivi cioè Spugna di Boborskin e Spugna cioè guardando anche se magari fisicamente non gli somiglia rimanda fin troppo a Spugna della Disney come anche lo stesso Capitanuncino interpretato da Dustin Hoffman cioè sono stati dei film veramente belli cioè una reinterpretazione visiva ma anche storica del mito di Peter Pan fatta da un genio del cinema perché Spielberg che chi se ne dica sa fare film magari non sono film di particolare altezza certe volte sono film un po' più commerciali però Spielberg sa narrare ultimo ma non ultimo di questa schiera di film live action La Famiglia Adams 2 io La Famiglia Adams ovviamente la conoscevo per i cartoni animati e per qualche sporadico episodio della serie originale in bianco e nero non ho mai visto quando ero piccolo il primo film della Famiglia Adams non so perché non mi è mai capitato di vederlo ma ho sempre solo visto La Famiglia Adams 2 che comunque io reputo molto migliore poiché La Famiglia Adams l'ho rivisto cioè l'ho visto per la prima volta tipo due o tre anni fa mi era piaciuto però non è divertente non ha quella sagacia che ha La Famiglia Adams 2 che cioè sinceramente anche se ho notato che su internet molti criticano questi due film diretti dal regista di Man in Black perché è un po' troppo da quello che è lo spirito originale ossia mette La Famiglia Adams in un'ambientazione moderna mentre se non mi sbaglio La Famiglia Adams è sempre stata legata a un mondo un po' più anni 30 questa critica sinceramente non mi tange particolarmente perché comunque il film è molto divertente si vocifera su internet da anni che probabilmente Tim Burton dirigerà un film stop motion sulla Famiglia Adams e sinceramente lo spero con tutto il cuore perché sarebbe un sogno che si avvera perché vedere La Famiglia Adams legata a Tim Burton è veramente qualcosa che dovrebbe venire ovvio nella mente di qualsiasi cinepilo appassionato di Tim Burton comunque si La Famiglia Adams 2 è sempre stato un film anche esso particolare perché comunque anche esso come tutto ciò che riguarda La Famiglia Adams sembra una comicità molto macabra una comicità molto nera però è bello come riesce a divertire senza essere troppo magabro o addirittura troppo volgare e nella Famiglia Adams 2 c'è sempre il rischio dietro l'angolo di risultare volgare però incredibilmente non lo fa cioè nella Famiglia Adams 2 si parla spesso di sesso però non viene mai quasi mai nominata la parola sesso e viene sempre molto filtrata questa cosa e rende il film godibilissimo sia ai bambini che così diciamo non rimangono colpiti ma anche per gli adulti che invece capiscono cosa invece i personaggi intendono veramente e per questo motivo secondo me è un film molto importante sia per la mia infanzia ma in generale anche per dimostrare come si può fare commedia con temi delicati senza essere volgari chiuso il capitolo live action vi parlo un po' di alcuni film dell'animazione però non sono film dell'animazione della Disney a cominciare dai film di Lupin o comunque dagli speciali televisivi di Lupin che mi ricordo che quando ero piccolo ci fu un periodo dell'anno in cui ogni sabato pomeriggio o ogni domenica sera ora non mi ricordo su Italia 1 veniva trasmesso uno di questi speciali o di questi film tra i tanti che li ho visti tutti quelli che mi ricordo di più sono stati e ora ve li nomino con il nome che è passato su Italia 1 perché sinceramente non è che mi ricordo molto bene i titoli originali sono Nomi in codice tarantola che se non mi sbaglio è Walter P38 Una cascata di diamanti che se non mi sbaglio è Il segreto del diamante penombra e Il tesoro del Titanic che se non sbaglio è Spada Zanterezu che sarebbe la spada di Gaemon Infuocati e sinceramente di tutti e questi tre titoli preferisco sempre la versione di Italia 1 questi tre film di Lupin sono stati i film che più mi ricordo perché furono quelli che mi piacciono di più poiché mostravano dei lati di Lupin secondo me o comunque delle tematiche di Lupin che io non avevo mai visto poiché su Italia 1 questi episodi di Lupin come anche i film di Lupin passavano sempre molto censurati e filtrati mentre mi ricordo che fu eclatante come questi tre film vennero trasmessi in edizione integrale per la prima volta con una cascata di diamanti ho visto Fujiko nuda in Walter P38 ho visto personaggi morire direttamente ho visto dei crani esplodere davanti allo schermo e nel tesoro del Titanic ho visto per la prima volta delle donne diciamo un po' più interessate a degli argomenti spinti erano cose che sinceramente mi segnarono un po' da piccolo e per questo motivo adorai questi tre film in particolare e me li ricordo tuttora sono i miei preferiti anche perché secondo me sono quelli che hanno delle trame molto più efficaci rispetto a film magari un po' più moderni parlando di film di Lupin che comunque sono sempre bellissimi secondo me ci sono poi due film d'animazione non Disney che mi ricordo legati alla mia infanzia poiché non erano proprio il film in sé ad essermi ad avermi segnato ma perché appunto è un po' il ricordo che tutti hanno di me ossia io piccolo che guardavo Balto e il film dei Gargoyle allora il film del Gargoyle io già il Gargoyle adoravo la serie animata il film del Gargoyle poi lo adoravo Balto invece è stato un film che tutti nella mia famiglia io compreso ce lo ricordiamo perché c'ero io con tutti i miei cugini e i miei cugini agglomerati davanti alla televisione tutti inginocchiati a guardare questo film quindi questi due film io ce li ho nel cuore appunto per questi ricordi collegati a loro i film in sé poi sono bellissimi Balto in particolare magari il film dei Gargoyle può risultare un po' scontato comunque sempliciotto diciamo al giorno d'oggi mentre Balto è un film secondo me bellissimo che continua a essere bello per la potenza della sua storia e per la sua potenza visiva un'animazione eccezionale aveva Balto e mi ricordo anche il poster della videocassetta era bellissimo oggi giorno le cover dei DVD non sono belli come erano le cover delle videocassette di una volta in conclusione Titan A.E che è stato uno dei è tuttora uno dei miei film d'animazione preferiti poiché è quel genere di fantascienza che io adoro è una fantascienza nello spazio quindi una space opera però è una fantascienza anche logorata è una fantascienza decadente come può essere lo Blade Runner quindi è una fantascienza diciamo cyberpunk però ambientata nello spazio era un qualcosa che mi piaceva poi c'era l'avventura del riuscire a ricreare la terra un tema bellissimo io continuo a pensare che se Titan A.E fosse stato un film live action e magari anche più lungo comunque se fosse rimasto un film di animazione però più lungo in modo tag a poter sviluppare ancora di più i temi che tratta sarebbe veramente un capolavoro della fantascienza in generale e questo perché perché lo ha diretto Don Blatt che è un regista che appunto riesce a trattare temi particolari in una determinata maniera in Titan A.E cerca anche di osare perché Titan A.E è un film violento qui i personaggi muoiono qui i personaggi muoiono anche in maniera violenta e brutale e Titan A.E è fantastico io lo consiglio a tutti anche chi non è più nella mentalità dei film dell'infanzia guardati Titan A.E perché è un bellissimo film di fantascienza ok concludo questa carrellata enorme di film della mia infanzia sono sicuro di essermene saltati tantissimi di molti film non ho parlato appunto perché questo video verrebbe lunghissimo suppongo che già sia diventato lungo da solo nonostante io ho cercato di renderlo il più breve possibile io spero che il video vi sia piaciuto spero che sia un buon inizio per questo 2014 spero di tornare il prima possibile con nuovi video con nuovi aggiornamenti e nuove recensioni dipende tutto appunto come vi ho già detto all'inizio da lo studio che devo fare e vabbè detto questo spero che appunto il video vi sia piaciuto vi invito a lasciare commenti sui film mito della vostra infanzia o magari anche dei video di risposta sui film della vostra infanzia e io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima